Musica Diventare grandi nel karate oggi è pressoché impossibile. O bisogna far parte di un corpo speciale, o avere anni ed anni di esperienza alle spalle, oppure devi semplicemente chiamarti Cristian Ferrara. L'atleta di Avellino è fra i 100 migliori al mondo nella categoria Kumite 84 kg. Il giovane Irpino, campione europeo Under 21, oro ai campionati italiani di Ostia e prima scelta della nazionale Under 21 ha raggiunto i grandi del karate. Ferrara è il terzo italiano, dopo Nello Maestri e Michele Martina, a rientrare nei primi posti del ranking mondiale, ma soprattutto è l'unico dei tre a non far parte di un corpo speciale e ad avere meno di 20 anni. Per chi l'avesse dimenticato, il piccolo atleta, piccolo solo per l'età, ha solo 18 anni ed è destinato ormai a diventare una certezza nel panorama mondiale delle arti marziali. Grazie a questo prestigioso piazzamento, l'Irpino prenderà parte alle qualificazioni di Tokyo 2020. Il cammino inizia parlando francese, la prima tappa sarà a Parigi il 24 gennaio, poi volo diretto per Dubai con la speranza di tornare in Italia ed abbandonare quell'83esimo posto in classifica. Fatto sta che da oggi a tifare Ferrara non sarà solo la sua Erpinia, ma tutta l'Italia.